www.feyyaz.tv Avevamo fatto il tuo passo di paia, era il tuo cilio, era il capullo, avevamo la cilio della cabina e della panta terra era tutto perbole di vigna, allora non era la stessa del principio. Questa no, che aveva servito di pane alla palla perché erano tutti i bambini che magari non fanno, è tutto qua sotto il casino, era tutto qua, io sembri di fare che la pagina tutta la notte, erano talmente le giornate dei baciassi, dopo aver guardato la guardia. Al passato, avevamo il tribunale perché erano tutti i bambini, però dovremmo aver fatto una palla di quelle grosse, invece che avevano un beletto di casa vostra, si parla di un letto del più bello. No, avevano dormito su lei, ma non aveva tutto. Poi lì ancora era la categoria delno, della campagna, e era un pallone della luce della Montecatini che era l'unica lì elettrica che era del paese. non? Tu stai vicino, non ho fatto più. Non puoi fare il sangue. Di questo tipo? Tu fai messo la damigiana? Non, non è da domiciana. Non, non è da domiciana. Vai un po' di dura vita. Guarda che non dormire erano, e dopo dormire il pochettino, e finché c'era... Insomma, mi dico che avrebbe un quartiere già per un'altra... Oh, che pura era! E dopo lì mi diceva così... Io mi ricordo che gli avevo avuto la vera... L'altro qua gli articolati, so che... Ho sentito un po' di un brazzo e proprio sono... Non preoccupatevi che dal punto di vista morale... Bisogna proprio fare la grossa perché sia qualcosa di grosso... E mi diceva che non è ancora proprio grossa la bala... Se uno quando passa il car di pene ti riferisco il suo sbaglio... Che è il Mario? E' qui che sta via San Paolo? Treccato il nome e sotto... Dopo mi ha nominato... Aspetta... Non posso dire un nome? Non mi ricordo... Come è che abita Zoril? Come è che abita Zoril? Famiglia Dio il corso dei Alpini... Vissuta... Da Nietzsche... Ah, anche la Cristi se fa! Ecco... No, 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 no... Dovete dirvi uno che mi piace la macchina... E ti sento... Che corso dei Alpini te... Ma da che hai messo la musica? Non so, non so, non so, non so, non so mai, non so mai, non so mai, ma cercare di piacere un po' di più anche ti mentre ti fosse una buona strada perché mi fanno giocare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.